Musica Lombardi Numero Porta la palla Lombardi, Gaetano Ponticelli Lombardi Mirra Il tiro Alla regia Gennaro Ivone Per la prima volta Scusate lo scandalo Di Maio Palla per massa Verticalizza subito per Mirra Ma il portiere anticipa Ponticelli Lombardi Intercetta Cuccio Che la passa a massa Ottimo intervento di Lombardi La speziale azione di Napolimania Lombardi, Ponticelli Palestra Lombardi, Gaetano Lombardi, Alberto Ancora lui Numero Si porta in palo laterale Di Maio Il capitano Per massa Che perde palo Lombardi Il portiere Ponticelli Lombardi La gira subito sul palestra Lombardi Ponticelli Il tiro Alto Riprende la Da Lopez Palla per Curcio Verticalizza per Mirra Che stoppa Il tiro Palestra Evita tutto Spallone massa Curcio a volo Portiere Mirra Gol Numero 11 Del Napolimania 4 a 1 Lombardi Lopez Palla per Curcio Che gioca sulla destra Verso Maurizio Di Maio Il capitano Verticalizza per Mirra Sponda per massa La palla già era uscita Migliore Lombardi Migliore Ancora lui Porta palla Poggia A Lombardi Infortunio Per il numero 4 Migliore Una storta Lombardi Riprende il gioco Da palestra Lombardi Viene fermato da Curcio Palestra Lombardi Lombardi Gaetano Il tiro Zuppo Ancora lui Zuppo Tiro la parata Del portiere Ponticelli Zuppo Passa Zuppo Numero Goal Zuppo Numero 5 a 1 Per Napolimania Il capitano Gianluca Pasquale Lopez La fa sua L'ultima azione È dallo Stodio Kennedy E chiudiamo il collegamento E tutto